Ciao a tutti! Oggi apriamo insieme la buggy della Lego Technic! Eccola qui! Apriamo insieme e montiamola insieme. Mi faccio dare una mano dal mio papà per montare la macchina. Ecco qua, è la bella! Wow! Ci sono le bottine! Eccola! Eccola! Quante sono? Uno e due! Due bottine sono! Una grande e una piccolina! Ah! Gli adesivi! Che bello! Io adoro gli adesivi! Ecco i fogliettini! Ah! Volevo dire le istruzioni! Wow! Che bello! E' molto difficile! Però a volte ce la faccio e a volte non! Questa volta ci devono riuscire! Se no mi faccio aiutare! Questi sono i tubetti! I tubetti della Lego Technic si perdono perché sono piccolini! Però questi mi sembrano un po' grandi! Insieme papà! Io nel frattempo... Cominciamo papà! Servono due rossi così! Eccoli! Li hai trovati papà? Sì! Ok! Mamma mia! Le ruote sono gigantesche! Bello! Ecco fatto! Ci manca un zappo di pagine! La fine della pagina è... E' 35! Ci vogliono 35 pagine! Mamma mia! Ci vogliono 35 pagine! Ci vorrà... Ci vorrà un sacco di tempo! Giallo! Ho provato... ho trovato un giallo! Drollare! Ci presto! Drollare! Ci vorrà un sacco di tempo! Si! Drollare! Cosa! Ci vorrà un sacco di tempo! Cosa! Drollare! Cosa! Cosa! Mi cosa! Cosa! delici abbiamo finito di montare la macchina ecco qua fatto poi quest'altra ce la faccio al contrario ecco qua la macchina la ruota serve per muovere le ruote e poi si preme su qua e fa giù la macchina la macchina la macchina si mette questo di qua e fa il giro di qua si mette questo di qua e fa il giro di qua e questo serve per abbassare ecco qui la macchina adesso vi saluto ciao alla prossima ciao 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 ciao